Siete pronti? 3 2 1 Abba! Dimmi da! Mi serve la barastabilizatrice dell'Arbetta 1800 Dammi il telaglio che te la cerco! Si Siete pronti? Siete pronti? La Tamesa 사�인지 Dai, asso ritmo tra due giochi e pronta Vuoi saperne di più, vero? E allora dai, vai sulla pagina Facebook di Affari Spullonati Ciao Ciao